Nella serie, insomma, vabbè, in effetti abbiamo preferito noi invece di fare le figure più basse per dare risalto ai vari ambienti, ma non tanto come aule, chiaramente come stanze, ma per dare più importanza agli argomenti che abbiamo, rilevanza agli argomenti che abbiamo fatto durante il corso di Speed Up, in questa prima parte. Allora, abbiamo diviso, diciamo, in quattro zone, la zona A sarebbe questa zona verde che rappresenta la lavanderia, insomma, c'è l'asse da stilo con la lavatrice, il disegno di una lavatrice, col ferro, questo è un grazie a Francesca perché è lei che è riuscita a mettere a fare queste cose. Lavoro di gruppo, ovviamente. Poi abbiamo, e qui chiaramente ci siamo rifatti all'argomento del lavaggio e stiraggio, chiaramente. Poi qui abbiamo l'estetica, anche se ci siamo accorti, insomma, che... da notare, sedio lì nel tappo dell'argomento. Sì, che poi deve tornare, deve tornare alla colla. E qui ovviamente è tutto il progetto, la direzione di valentia. Poi abbiamo qua l'accoglienza, Messefania, in verità qui c'è una piccola piccola, con anche un divano, ma non ci siamo riusciti proprio per intendere l'accoglienza, quindi apparecchiare il tavolo. L'albero di Natale, chiaramente, ci facciamo al periodo, ma soprattutto il presepe, che in effetti è, diciamo, lo spiega di tutto quello che facciamo noi tutti. Poi abbiamo fatto la sala delle feste, diciamo, abbiamo rappresentato l'ultimo argomento che abbiamo trattato, cioè le feste dei nostri bambini, gli effetti, vabbè, avessimo avuto più tempo, dobbiamo fare anche dei bambini interni, però li abbiamo colorati sulle finestre. Infatti, diciamo, parliamo da fuori, immaginiamo quello che c'è dentro, quello che non siamo riusciti a fare. Per quanto riguarda le porte, cioè, le porte sono state un po' aperte, chiuse, insomma, per quanto riguarda come lavoro di gruppo, invece noi siamo divertiti. Bellissimo. Altrattissimo. Allora, qui si perde, ma qui si sta... Questa parola, qui si mette, si mette, si diventa. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.